Cari ascoltatori di Radio Pugginio Nair, oggi ci immergiamo nel mondo intrigante e audace del trio La Sad, che si appresta a lasciare il segno sul palco di Sanremo 2024. Theo, Plante e Fix sono i volti colorati di questo gruppo emo, trap, pop, punk, che promette di portare freschezza e originalità alla Kermesse musicale più attesa dell'anno. Chi sono i La Sad? Questa è la domanda che tutti si pongono e noi siamo qui per darvi tutte le informazioni necessarie su questo gruppo che sta attirando l'attenzione di appassionati e curiosi. Insieme a Maninni, Il Tre e Big Mama, La Sad si presenta come uno dei protagonisti più misteriosi di Sanremo 2024. Teo con i suoi capelli verdi, Plante con i suoi capelli blu e Fix con la sua cresta rosa sono i nomi d'arte dietro ai quali si nascondono Matteo Botticini, Francesco Emanuele, Clemente ed Enrico Fonte. Un trio che ha abbracciato sonorità emo, trap e pop, punk, creando un mix esplosivo che fonde il mondo punk del 1977 con le ritmiche pop punk californiane. Questi giovani artisti hanno condiviso esperienze musicali diverse prima di convergere in La Sad. Teo in particolare ha un passato nel metalcore, essendo stato il cantante della band Upondis Danin, un nome di spicco nel genere, e da qui il suo percorso si è spostato verso la trappa italiana con il progetto Danien e Teo, un duo che ha fatto parlare di sé con l'EP Hollywood Season e l'album Dolce Vita. Plant, con una carriera da promettente rapper, ha iniziato a farsi notare nel 2015 con il suo primo mixtape Malpensiero e ha collaborato con figure di spicco nel mondo del rap come Nerone e Bassi Maestro. Nel frattempo Fix, originario della riviera del Brenta, ha un background nel mondo emo, trap e punk mostrando le sue abilità come cantautore, produttore e videomaker. La Sad ha conquistato l'attenzione del pubblico con una serie di singoli, tra cui Summer Sad, Psycho Girl e Miss U. Nel 2022 hanno pubblicato l'album d'esordio Stone e la Sad, seguito da una versione deluxe che include collaborazioni e nuove tracce. La loro ultima creazione, Memoria, in collaborazione con il collettivo Electro Pop BNKR44, è uscita l'1 dicembre 2023, per cui davvero cinque giorni fa, pochissimo. Ma la vera sorpresa è che la Sad è in gara per Sanremo Giovani, cercando di guadagnarsi un posto nell'edizione principale del Festival di Sanremo 2024. Con il loro stile unico, i testi introspettivi e il mix eclettico di influenze musicali, la Sad promette di essere una delle scoperte più interessanti di quest'anno. Restate sintonizzati su Radio Pugginio NER per tutte le ultime notizie sulla Sad e gli altri grandi artisti che stanno percorrendo il palcoscenico della musica italiana. La nostra passione è condividere con voi la magia della musica e la Sad sembra essere pronta a regalarci un'esperienza unica e indimenticabile. Staremo a vedere, sono tutti, sono da conoscere, è da conoscere questa band, per cui la conosceremo molto presto, voi restate sintonizzati con Radio Pugginio NER.